Presidente Tinari, insomma la fiction, l'Aquila, grandi speranze, ritenuta offensiva nei confronti dell'immagine della città? Sì, certamente, io la ritengo offensiva, si può dire? Io penso di sì, perché l'Aquila ha bisogno di rispetto e non di queste cose qua. L'Aquila bisogna rappresentarla per quello che è, non per quello che non è mai stata. Quindi anche nelle fiction, in qualsiasi altro documentario, bisogna rappresentare la realtà, se si vuole bene all'Aquila, altrimenti praticamente io lo ritengo un atto stile verso questa mia città. E un atto stile verso il quale l'amministrazione, il Consiglio sta pensando a delle azioni? Certo, certamente, ci faremo sentire sia nei vertici RAI, sia per quanto riguarda la produzione, soprattutto, e quindi chiederemo anche di bloccarla. Chiederete anche danni all'immagine? Questo certamente, vediamo se ci sono i presupposti, ci abbiamo dato in carico ai legali dell'ente per vedere se ci sono i presupposti. Se ci sono i presupposti non arritreremo di un passo. Alla RAI che cosa direte? Alla RAI diremo che l'Aquila deve essere rappresentata per quello che è, non per quello che non è mai stata. Questo dobbiamo dire, anche se è una fiction, quindi non è un documentario che deve rappresentare la realtà, ma anche nelle fiction, praticamente, abbiamo già avuto delle esperienze. Vi ricordate il Draquila? Il Draquila, subito dopo il terremoto, ci ha fatto un danno di immagine immenso, però allora praticamente non abbiamo la forza di reagire. Adesso abbiamo la forza di reagire e reagiremo sicuramente. Nessuno della produzione ha tentato di chiedere all'amministrazione comunale o al Consiglio stesso di poter visionare la scenografia, il racconto, la trama? Ma questo non lo so. Non lo so se è stato chiesto a qualcuno, a me sicuramente no. Grazie. Grazie. Grazie.